Oggi viene ufficializzata la candidatura di Paolo Cigli alle regionali. Sì, è una delle notizie, non l'unica, perché in pratica tutto il gruppo qui fa capo Paolo, qui a Montesilvano, aderisce al nostro movimento politico, a Forza Italia. Per la verità, poi lo dirà lui, eventualmente, sono sempre stati molto vicini alla nostra formazione politica, ovviamente in accordo anche con il nostro coordinatore locale, Carlo Andrea Falcone, con Lorenzo Sospiri, facciamo una bella cosa qui a Montesilvano, Forza Italia si rafforza certamente, alle prossime elezioni regionali Paolo Cigli sarà il nostro candidato nella lista di Forza Italia. E anche la vicinanza del movimento civico Montesilvano in comune al partito di Forza Italia, ha rimarcato Cigli, di fatto oggi viene ufficializzata in una sorta di federazione. Noi riteniamo che la candidatura di Montesilvano, su Montesilvano, di una persona sia importante, perché anche Montesilvano, dopo 25 anni di esclusione dal Consiglio regionale, deve poter tornare a dire qualcosa in ambito regionale. Anche il discorso della grande Pescara è un discorso su cui noi teniamo molto, la legge è regionale, e quindi anche lì è bene che ci siano dei rappresentanti di Montesilvano che possano arrivare a dire anche quali sono gli interessi e possano rafforzare gli interessi del comune di Montesilvano in questo progetto di fusione. E Forza Italia, che ringrazia Paolo Cigli, si rafforza di quattro consiglieri, due assessori, di una lista civica che intanto ha sposato una causa.